Una delle nuove Personal Copiers Canon, veramente piccola. Stampi in sei colori. Su qualsiasi tipo di carta, di ogni formato, una garanzia di cinque anni e non hai bisogno di manutenzione. Com'è possibile? Un cuore, una cartuccia che contiene le parti che si consumano, ma chissà quanto costi. Così poco, ma sei geniale! Canon, il genio delle fotocopie. Troverai le nuove Personal Copiers Canon presso i rivenditori Canon e Buffetti della tua città. Cercali sulle pagine gialle.